buongiorno sicuramente avete visto che 50 mila volte questi garage che perdono con un ipradal ecco qui sono è la situazione di un box con tutte le infiltrazioni che al di sopra di questa box qua c'è la terra e trovare le perdite è molto difficile con questo sistema io ho individuato esattamente cinque punti adesso vi faccio vedere solamente due punti ecco adesso andiamo al di sopra della del giardino questo va il primo punto stanno già incominciando a scavare questo qua è un secondo punto questo qua è il primo punto di prima scusate questo è il secondo un buon 40 centimetri di terra qui il tessuto non tessuto è stato tagliato e qui la verifica verifica ci sono le giunte che suonano adesso le ripariamo qui c'è addirittura un buco questo qua è il primo punto di prima scusate e qui c'è addirittura un buco grazie a tutti